cari amici buongiorno se nella prima domenica di avvento siamo stati condotti invitati ad aprire mente e cuore al ritorno ultimo del signore questa seconda domenica di avvento che andiamo a celebrare ci richiama un dato di fatto imprescindibile e irrinunciabile la salvezza cristiana è salvezza storica è salvezza dentro la storia è salvezza della storia la pericope evangelica si apre con uno sguardo possiamo dire universale in riferimento ai grandi e ai potenti della terra in campo politico e religioso come avviene in molta parte dei nostri telegiornali così con una semplice avvertimento con una quasi banale informazione siamo informati del dire e del fare dei vari gerarchi sulla faccia della terra però il vangelo si conclude con una affermazione ad alto voltaggio teologico ogni uomo vedrà la salvezza di dio vedete il futuro non è da intendersi come un riferimento oltre il tempo e la storia ma è l'occasione reale e concreta di incontro con la salvezza dono di dio dentro la storia che viviamo oggi si irride al dono della salvezza e siamo guardinghi rispetto a coloro che si proclamano salvatori o messia e sotto certi aspetti meno male nel contempo siamo più disponibili a considerare la salvezza che ci interessa su un piano cosmico siamo preoccupati per l'innalzamento delle temperature e per il conseguente innalzamento dei mari siamo sensibili a tutti i problemi riguardanti l'ecologia siamo immediatamente coinvolti quando le vicissitudini scoprono la causa dei diritti soprattutto acquisiti siamo assertori della libertà assoluta senza passare da liberazione alcuna siamo aggrappati alla scienza come unica via di salvezza c'è però una salvezza storica e il vangelo la tratteggia con una espressione sintetica ma decisiva la parola di dio venne su giovanni figlio di zaccaria nel deserto per cui non c'è solo la storia dei potenti o la storia fatta dai grandi di questo mondo c'è una storia che riguarda un uomo concreto descritto nel vangelo come il figlio di uno dei sacerdoti aggiungo io della classe di abia e ci viene detto nel vangelo il nome di questo sacerdote zaccaria ecco la possibilità di incontrare la salvezza della storia non è la risultante di una visione cosmica della salvezza ma è il compiersi di una accoglienza che vede un uomo di nome giovanni aprirsi alla parola di dio che lo raggiunge e lo trasforma lo abilita a una missione e lo rende strumento di conversione la salvezza di dio che trasforma la storia passa attraverso volti attraverso incontri attraverso relazioni che nascono dall'accoglienza della parola di dio e dal fatto che il signore parlando e legge e invia per una missione e così la salvezza cristiana continua la sua corsa nella storia l'attesa del signore che questa seconda domenica di avvento ci richiama si traduce nella disponibilità ad accogliere la parola di dio che rende nuova la storia salvezza nella storia vuol dire che non basta un afflato convenzionale più o meno decisivo intorno a valori come comuni necessita invece una conversione personale e comunitaria a quel dio che ci parla e ci chiede di fare storia con lui non basta un afflato convenzionale più o meno decisivo intorno a valori in un suo Grazie a tutti. Grazie a tutti.